Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale qui con Toukens in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andremo a vedere qual è la seconda sfida dell'evento mezzo inverno, ma come prima cosa vi invito subito a lasciare un bel like di supporto ed un commento con l'hashtag salutami se nei prossimi video guida volete essere salutati. Come ultima cosa, se questi video guida vi sono utili per avanzare di livello all'interno del pass battaglia e mi volete supportare per la crescita e le varie spese che ci sono dietro un canale, potete supportarmi inserendo all'interno dello shop ed acquistando con il codice Toukens. Ogni acquisto che andrete a fare, se me lo taggerete tra le storie di Instagram, io lo farò vedere all'interno dei prossimi video guida. Come detto però adesso non ci dilunghiamo ulteriormente ed andiamo a vedere qual è la seconda sfida di questo evento. Quindi per vederla bisognerà andare quindi agli incarichi in mezzo inverno e da come potete vedere la seconda sfida ci chiede di infliggere 50 danni agli avversari con il lanciapalle di neve. L'oggetto in questione amici è quello che si trova qui, da come potete vedere sotto il pupazzo di neve. Questo oggetto si trova comunemente all'interno della mappa di gioco, aprendo forze o comunque girandola un pochino, penso che in 4-5 partite lo riuscite a trovare abbastanza facilmente, dovrete fare un 50 di danno e potrete così a termine la sfida. Quindi amici spero che questo video guida vi sia stato utile, come detto all'inizio lasciate un bel pollicione in su, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i prossimi video guida. Come sempre vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video!